Un anno ricco di fatti ed avvenimenti, un anno di scontri e confronti, un anno di politica a Giffoni Valle Piana. Il 2012 volge al termine ed è tempo di bilanci. Antonio Andrea, membro del gruppo di minoranza Noi Riformatori, ha così ripercorso l'operato dell'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Paolo Russomando. Credo che la maggioranza in questo momento, in questo anno, abbia fatto poco o niente. Anzi, come ben dicevi, ha fatto solo una serie di aumenti, ha aumentato l'addizionale IFPEF comunale, ha aumentato l'addizionale comunale dell'Enel, l'Imu ha messo la tassa più alta. Quindi credo che la maggioranza in questo anno abbia fatto completamente nulla. Nell'ultimo consiglio c'è stata la presa d'atto della Corte dei Conti perché il comune di Giffoni Valle Piana ha presentato in ritardo il bilancio sia del 2009 che del 2010 e le motivazioni e le giustificazioni sono queste. Hanno detto che siccome c'era sia la campagna elettorale e poi c'era anche questa manifestazione a Giffoni ormai conosciuta a livello internazionale come il Giffoni Film Festival, credo che non sia una scusante che venga presentato un bilancio in ritardo per queste due situazioni. Quanto riguarda la nuova ala del cimitero, ma dovevano iniziare i lavori il settembre scorso, fino ad oggi non è stato fatto ancora nulla. Dai lavori di ampliamento del cimitero comunale al caso del tesoretto, tanti gli argomenti trattati dal consigliere d'opposizione e a chi ha accusato la minoranza di essere poco coesa, Andrea ha così precisato. Noi non siamo coesi, anzi mi sembra tutt'altro. Credo che il nostro gruppo, noi riformatori, sia molto unito. Il capogruppo con Nicola D'Alessio e tutti noi consiglieri, siamo veramente sempre tutti quanti insieme in gruppo a cercare di poter fare le nostre stanze e fare il controllo che ci spetta alla maggioranza. L'opposizione si avvia così ad un nuovo anno di politica.